Per informazioni sui vaccini, sui tamponi, sulle quarantene e altri dubbi sull'emergenza Covid-19, i cittadini toscani possono chiamare il nuovo numero unico 055 90 77777. Il servizio si chiama InfoCovid e si svolge da un padiglione della Fortezza da Basso a Firenze, dove lavorano anche i tracciatori che ricostruiscono i contatti dei nuovi positivi al coronavirus. Per il servizio InfoCovid, Regione Toscana e Ausl hanno assunto con un contratto di sei mesi rinnovabile 79 studenti che frequentano la Facoltà di Medicina o i corsi delle professioni sanitarie. Un servizio che è in linea con la capacità di innovazione e anche, devo dire, di grandi novità che ha sempre presentato nel corso di questi mesi la Regione Toscana, grazie al suo servizio di informatica e di accesso a servizi informativi online e oggi chiamiamo InfoCovid quello che è un complesso di informazioni che possono avere. Il call center funziona tutti i giorni dalle 9 alle 16, tutti gli operatori sono messi in rete per favorire uno scambio di informazioni continuo ed efficiente. Sono 40 gli operatori che lavorano in contemporanea e quindi possono rispondere alle richieste dei cittadini. Nel primo giorno di attività sono state registrate circa 1000 telefonate, numero destinato a crescere nei prossimi giorni. Il cittadino telefona e chiede informazione e orientamento su tutto quello che riguarda i percorsi Covid, quindi la prenotazione dei tamponi, fine isolamento, rientri dall'estero, campagna vaccinale, quindi quali sono le categorie, tutto quello che riguarda il mondo del Covid, dei percorsi che vengono effettuati e quindi il cittadino si trova a dover affrontare nel caso abbia bisogno di avere un percorso Covid.